Anche lui nato per caso di aglio, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Tuo amico, se non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai con me che non hai avuto più. La primavera è in mezzo al vero, non hai mai mai. Dove sarai? E non si capisce perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, ma la volete lasciare quest'erba o no? Bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lasciate le ultime case, si otrepassa il piccolo canale, il viaggio inizia. La strada incontra il muro diviso dei campi di granotute. Tra curve strette e deviazioni si intravedono lontane le ultime cascine, quasi salutare. La strada si restringe e i piccoli canali saltellano al suo fianco a voler indicarla via. Dopo una curva, la strada è indiottita nella galleria verde che trasforma il giorno in notte. Prima dell'arrivo al piccolo ponte si apre davanti agli occhi l'oceano dei campi verdi e in lontananza si intravedono le montagne d'alberi che segnano il contino. Al piccolo ponte bisogna proseguire attento. La strada si fa di pietra. Due guardiani con rami alti accolgono chi arriva e difendono l'ultimo presidio. Le colonne spessate testimoniano la presenza dell'ultima casa circondata da un muretto di filo scendato. Si saluta, si oltrepassa e si ritrova il canale. Il sentiero ride un'ultima volta prima di perdersi. Si entra nel bosco delle streghe. La musica arriva dolce alle orecchie mentre il sentiero sale e scende. Prima del video si arriva ad una piccola borsa dove bisogna togliersi le scarte. Si prosegue a piedi in un'ultima volta fino al video. Tre strade. La prima sulla sinistra inganna, la seconda sulla destra supera. La terza, la centrale, quella giusta. Si perde in mezzo agli alberi dove si ascolta il canto delle streghe. Dopo l'ultima salita si sente l'odore del cielo. Si apre lo sguardo. Si oltrepassa l'ultima collina e si arriva al fiume. Maalì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.